La sentenza di Garlascola, girandola dei sospetti, abbiamo anche il commento di Felte e Laparietti, cuccioli e padroni, l'incidente stradale, la dieta dei ciccioni e vacanze di Natale. Bene, questa è veramente una puntata speciale, tanto che si erano dimenticati di darci la linea. Ora ce l'abbiamo e possiamo fare quello che volevamo fare fin da ieri, quando abbiamo invitato un candidato del Movimento 5 Stelle, che si chiama Dino Gianrusso, è uno dei nuovi candidati, nuovo, nuovissimo per la politica. Prima faceva la televisione, lavorava con le Iene, io ogni tanto lo incontro, lo incontravo, adesso fa invece il candidato per il Movimento 5 Stelle. Quindi chi meglio di lui per spiegarci un po' di cose che magari quelli che già hanno condiviso una lunga strada non si accorgono neppure che siano novità. Lui se ne accorge è come. Buona giornata. Buongiorno. Ecco, aspetta, parla che ti mettono anche a posto l'audio, perché è un momento... Avevamo provato e funzionava. Bene. Continua a parlare? No, no, ma io sto parlando della diffusione di studio per me, se no ti vedo, tu ti senti ma io non ti sento, ora ti sento, benissimo. Ok, buongiorno, ridico buongiorno a te, a Paolo e buongiorno a tutti i nostri spettatori. Benissimo, benissimo. Allora, partiamo un po', parliamo di questo movimento, ho già parlato molte volte con esponenti, rappresentanti, anche con il leader, quindi facciamo un riassunto. Qui siamo alla vigilia del voto e è anche una cosa carina farlo con te. Ok, allora, prima cosa la questione di ieri, che stamattina ha creato tanto scalpore, che è stata fatta anche un po' apposta, no? Quella di portare una primo parziale elenco di ministri, di inviarlo via mail al Quirinale e che, insomma, Gentiloni ha definito irreale. E quindi voglio sapere un po' la tua opinione, la vostra. La ritengo un ottimo passo avanti verso una maggiore trasparenza dei rapporti fra movimenti politici e cittadini, cioè gli elettori, oltre a sapere chi sono i candidati dei loro collegi e quindi chi voteranno mettendo una X sul Movimento 5 Stelle, Premetto, io sono candidato in un collegio che si chiama Roma 10, che ha Monteverde, Gianicolenze, Viale Marconi, Trullo, Portuense, Magliana, Muratella e Tordivalle, Aurelio. È un lunghissimo collegio. Lo dico perché secondo me è importante che gli elettori sappiano chi votano quando mettono la X sul Movimento 5 Stelle o su altri partiti. In questo caso facciamo un passo avanti in più, quindi dare già la lista dei ministri del governo Di Maio, perché Di Maio, come sapete, è il candidato premier. Secondo me è un atto di trasparenza, non è un atto, come qualche folle ha detto, contro la Costituzione, è assolutamente falso. Contro la Costituzione sono le cose che non sono costituzionali, cioè che sono proibite dalla Costituzione. Questo non è assolutamente proibito dalla Costituzione, è il rituale, perché normalmente prima si va a votare, poi si fanno un po' di inciuci sulle poltrone e poi si fa la lista dei ministri. Tu lo sai molto bene perché hai molta più esperienza di me. No, ma io ti sto facendo parlare perché stai dando una spiegazione che fino a un certo punto è assolutamente logica. Io lo so molto bene, c'è gente che si è presentata anche prima dicendo che i miei ministri saranno questi. Tra l'altro l'ha fatto molte volte anche Berlusconi e infatti l'hanno anche criticato. Ne ha detti alcuni, sì. Tra l'altro in alcuni casi è stato smentito, mi ricordo che una volta disse Montezemolo ministro e poi Montezemolo... Ecco, questo è il punto. Il punto qual è? Il punto è che uno dice che questa è la lista dei ministri ed è il rituale, perché prima bisognerebbe fare in modo che il Presidente della Repubblica ti dà l'incarico, poi fai le consultazioni, poi vedi se hai la maggioranza, poi presenti i ministri. Ma questa irritualità non mi sorprende, anzi... È una delle tante novità del Movimento 5 Stelle, novità nel senso della trasparenza. Sì, no, trasparenza a pezzi, perché quello che mi sorprende è che uno dà la lista dei ministri e merita a tutti, no? Perché dice saranno 18, ora tenete ho 6, domani 3. E domani, eh? Eh? No, domani c'era la lista completa, c'è la prestazione completa e domani, giovedì. Ma anche con i... Domani pomeriggio. Ma anche con quelli dei rimborsi è andata la stessa maniera, 6, 8, 12, 14, 6... E quelli perché non sono stati scoperti subito tutti, i miei colleghi delle Iene ne hanno scoperto, a parte che non erano rimborsi, Paolo, ricordiamoci che non si trattava di rimborsi, ma di parte del loro stipendio che non avevano restituito del tutto. Quindi ricordiamoci, perché se uno dice rimborsi, rimborsopoli, la parola rimborsi non c'entra nulla con quella vicenda. Donazioni non effettuate, però erano donazioni volontarie. Donazioni non del tutto effettuate, quindi comunque sono andati fuori dal 5 Stelle, giustamente. Ha fatto bene Luigi Di Maio di condivire e allontanarli. Ha fatto bene perché la truffa non la facevano allo Stato italiano, non violavano la legge. Stavano facendo una piccola truffa al loro movimento. Un danno interno al movimento purtroppo, però tornando alla lista dei ministri, la lista completa verrà data domani pomeriggio e diciamo che queste prime anticipazioni sono state alcuni nomi che evidentemente Di Maio e il movimento hanno scelto di fare, non mi sembra neanche questo, ripeto, a me mi fanno ridere delle critiche su questo, perché le critiche argomentate, qualunque partito, qualunque movimento politico ha dei difetti. Allora, quando si fanno delle critiche argomentate, uno le ascolta, cerca di rispondere, ma le critiche sul nulla non le capisco. Cosa c'è di male nel dare prima una lista di ministri? Anzi, ripeto, è una trasparenza in più, non ci saranno sorprese. Facciamo un esempio concreto, Paolo. Nel 2006 Prodi vinse le elezioni per un pelino, te lo ricordi? Certo. E allora ci fu l'elezione del Presidente del Senato e del Presidente della Camera, dove un partito, l'Udeur, che era numericamente piccolo, fece un ricatto bello e buono al professor Prodi, come ricordiamo, e in cambio ebbe Mastella, Ministro della Giustizia. Perché non poteva fare liste prima Prodi? Non le poteva fare perché c'era il solito gioco di poltrone fra i partiti, che poi produceva delle stranezze, perché tante persone di sinistra, quando videro Mastella, Ministro della Giustizia, non credo che fossero particolarmente felici. Noi non abbiamo, non facciamo quei giochetti là. Noi facciamo una lista dei ministri che è quella. Se avremo la maggioranza in Parlamento e potremo governare, avremo quei ministri. Lo diciamo prima, così, come dire, peraltro ci esponiamo alle solite critiche che, anche lì, talvolta sono motivate, quasi mai, quasi sempre sono predespose. No, ma motiviamole, motiviamole in maniera più seria. Me li presenti un po' te quelli che sono stati detti finora? Perché ho letto sui giornali, ma sai, è meglio, cioè, tu stai in campagna elettorale, quindi tu stai chiedendo voti per quelle persone lì. Allora, io ti dico che è una cosa anche carina per utilizzare giustamente questo spazio, ti dico, presentameli. Guarda, no, io preferisco non fare la presentazione uno per uno prima di domani. Preferirei avere la lista completa. L'unica cosa che posso dire, però, è che sono molto felice che fra questi ministri ci sia Fioramonti. Perché lo ritengo, ecco, preferisco parlare di uno e poi domani magari parliamo degli altri. È un ministero importante, è comunque un ministero importante, eh? Porca miseria, è un ministero molto importante ed è un personaggio italiano caratteristico, cioè in questi anni, ne parlavamo ieri, a un incontro con elettori, con giovani, un incontro con gli universitari, ci sono stati una media di oltre 100 mila italiani l'anno che vanno all'estero. A me ha stupito questo numero, spero che non sia vero, però mi hanno detto ieri che è proprio un numero giusto. Sono cifre vicine a quelle della grande immigrazione, di quando c'era la povertà. Gli italiani andavano dal Friuli, dalla Sicilia, tante regioni italiane andavano in America con le navi. Per fortuna non ci vanno più con le navi, ma per sfortuna molte belle teste, molti italiani bravi che non vengono premiati e valorizzati da un sistema che non è meritocratico, a mio personale parere, ma non soltanto a mio parere, sono costretti ad andare all'estero. Fioramonti è un docente universitario molto affermato all'estero, secondo me un economista di altissimo livello. Non è compromesso con una classe politica che spesso ha fatto avanzare non tanto i più meritevoli, quanto i più fedeli al capo, e lo sappiamo bene. Spesso parlano di incompetenza di 5 Stelle, io vorrei sapere dove è scritta la competenza di alcuni ministri che abbiamo visto in altri partiti che non hanno nessun curriculum se non avere fatto l'allenatore di calcio di una squadra giovanile. Non credo che questo basti per fare il ministro, eppure nessuno dice niente su quello. Ci sono stati anche candidati alla presenza del Consiglio di altre formazioni politiche che non sono laureati, o come il ministro Lorenzin, che non è laureato, perché molti fanno la critica a Di Maio sulla laurea. Insomma, ci sono tanti altri politici che non hanno laurea, io ce l'ho, lo dico perché Sgarbi l'altra volta me l'ha chiesto in televisione, lo ribadisco. E Fioramonti è uno di quegli economisti bravissimi, giovani, validi, riconosciuti in tutto il mondo, molto riconosciuto per il suo lavoro, che è stato costretto ad andare all'estero perché in Italia questo valore non veniva valorizzato, scusando il gioco di parole, da un sistema sia universitario che è un sistema di cooptazione, spesso poco trasparente, che ci piacerebbe cambiare. Quindi è una scelta valida, secondo me, nel merito, ma anche simbolica. Sugli altri aspetterei domani. No, d'accordo, hai fatto la descrizione di uno e ha motivato fortemente da te anche come una rappresentazione di un certo tipo di società, l'hai spiegato, che tu forse ti senti vicino, insomma, o anche di rappresentare in qualche modo, e quindi è più che giusta una presentazione così. Ora, tu sei di Roma, no? Io vivo a Roma da 18 anni, dal 2000, in realtà io sono di Catania, sono venuto a Roma. Vabbè, sei catanese di nascita, ma romano di vita. E allora, tu a Roma ti presenterai nuovo come politico, come campagna elettorale, nuovo come politico a chiedere questi voti in questi quartieri che hai detto sono zone molto, molto importanti, diciamo, di Roma Est, Roma Est, Nord Est. Beh, no, è Roma Sud-Ovest, in realtà. Aurelia? Sud-Ovest. L'Aurelia? No, perché parte dall'Aurelia, ma arriva fino a Tordivalle, quindi Est sta a San Lorenzo, sta da quell'altra parte, è Sud-Ovest. Allora, lungo il litorale, praticamente, è tutta quella zona che parte dall'Aurelia. Non è meno, purtroppo non è meno. È tutta la Portuense, diciamo, lungo un po' il Tevere, se vogliamo. Benissimo. Dalla parte Portuense, Magliana, Trullo, poi Salendova e Monteverde, che è il quartiere, invece, diciamo, tanto caro a Nanni Moretti, a Nicola Piovani, quindi un quartiere, cioè non sia zone centrali che zone periferiche. E lì tu gli dirai, perché penso che glielo dirai, come giuro. Sto andando in giro, è un mese che vado in giro a stringere mani alle persone e a farmi e gli dirai, state contenti che Roma, che già amministriamo noi, la Raggi, è ben amministrata. State sicuri che quando passerà la neve, tra una quindicina di giorni, riapriremo le scuole, funzionerà tutto e non vi preoccupate perché quelli di prima ci mettevano due o tre giorni al blocco della neve, noi ce ne mettiamo sette, otto, ma siamo più trasparenti. Questo gli dirai? No, allora, mi sembra che l'emergenza neve, come bene l'ha amministrata la Raggi, non l'avesse amministrata nessuno. Io ricordo, sotto Alemanno, ci fu un disastro. Io ricordo la nevicata di Alemanno, però era una nevicata. Ci fu un disastro assoluto. È disastro, ma era una grande nevicata. Disastro assoluto perché non chiuse le scuole, ci furono incidenti stradali, ci furono le strade ghiacciate. Questa volta è meglio amministrata. No, sicuramente in questo caso l'emergenza neve, assolutamente sì. Innanzitutto, diciamo, raccontiamo la verità agli spettatori. Ma no, ma guarda che io sono di Roma, ha nevicato pochissimo, non raccontiamo... Come pochissimo? Ha nevicato pochissimo, è già sciolta la neve. No, ci siamo svegliati la mattina, ho le foto, come vuoi? Io non ho mai visto da 18 anni così tanto e non aveva mai nevicato. Va bene. No, l'altra mattina c'erano gli alberi carichi di neve, le montagne sembrano di stare a Selva di Val Gardena, le macchine con mezzo metro di neve. A Roma, perché non c'è più nessuno che li pota, non c'è nessuno che fa la potatura. Non ci perdiamo in luoghi comuni, per favore, ti prego. Io abito lì, perché mi devi dire che sono luoghi comuni? Abito lì, non ritirano la spazzatura. In che zona abiti? Abito in un quartiere a Nomentana, a Viale 21 Aprile, vicino a Viale 21 Aprile, non ritirano la spazzatura. Ci sono i cassonetti che si svuotano con le macchine automatiche, ma non passano a prendere quella vicino ai cassonetti. Sono due servizi separati e il secondo non funziona. Abbiamo fatto vedere decine di foto qua e di immagini e questo sta succedendo anche, non solo, perché io non sono così stupido da dire che sta succedendo con l'aggiunta Raggi, ma anche con l'aggiunta Raggi, non potano gli alberi, non tengono in ordine i giardini. Io sono stato nei quartieri dove una delle cose per cui mi hanno ringraziato è che avete potato finalmente gli alberi. Ieri a Via dei Colli Portuenzi, l'altra volta a Viale Marconi, quindi non credo che quello che tu dici sia vero perlomeno in tutta la città. Via della Primavera è un'arteria importantissima per una periferia che non era mai stata asfaltata ed è stata asfaltata. Attenzione, quando si fanno i bandi e le gare d'appalto regolari, lo ha detto anche Cantone che per la prima volta a Roma si fanno le gare d'appalto regolari, gli asfalti poi durano tanti anni, perché quando invece piove si formano le buche che si sono formate l'altro giorno prima della neve con la pioggia, hai visto quante buche che sembrano raggini? Si formano perché chi ha fatto gli asfalti, dovendo rubare una parte e dare tangenti a destra e a sinistra come i magistrati hanno appurato in questa città per 25 anni, tanto è vero che dell'ultima giunta precedente della Raggi sono stati arrestati, l'assessore alla casa, il presidente del Consiglio Comunale, diversi consiglieri comunali, il capo dei municipi di Ostia, ti prego fammi finire, quando si arrestano delle persone perché rubano soldi pubblici vuol dire che le strade si fanno peggio, con Virginia Raggi le strade si fanno bene perché fa le gare d'appalto regolari. Sono notizie che noi diamo, per la neve ci sono state 20 macchine, spazzaneve e spargisale venute apposta da Cuneo in tempo regolare, il messaggero ha attaccato Virginia Raggi prima quando decise di chiudere la scuola tramite il suo vicesindaco Luca Bergamo perché lei per impegni precedenti stava in Messico, ha fatto il comunicato, ha chiuso le scuole e c'è stato tanti che hanno detto non nevicherà affatto, ma perché chiude le scuole, la Raggi è un disastro e invece ha stranevicato e meno male, se no la città sarebbe stata paralizzata. Per me chiudo dicendo che si critica Virginia Raggi per come ha gestito l'amministrazione di neve a Roma, non ci sono stati problemi con la neve a Roma, invece le ferrovie dello Stato hanno avuto un disastro, chi sono i vertici delle ferrovie dello Stato, quei treni da Milano a Roma, da Reggio Calabria a Milano non sono più partiti, non hanno più camminato, non si poteva andare manco a Fiumicino in treno e nessuno ha detto niente. Ieri ho sentito un'intervista alla radio e chiudo, di un signore che da Reggio Calabria è andato a Torino e era convinto che la colpa fosse della Raggi per il suo ritardo del suo treno, ma che c'entra la Raggi con i treni? Sono due giorni che TG.com non fa altro che parlare di questo, delle cose che dicevi te di Roma, TG.com ha parlato ampiamente di tutto ciò che era legato a Mafia Capitale, è per questo che siamo cresciuti tantissimo di ascolto e di audience qui, ma soprattutto sul sito, perché noi di queste cose parliamo e non diamo a Raggi le colpe che non ha e questa cosa che stai dicendo delle ferrovie è talmente vera che l'amministratore delegato ha chiesto scusa e lo so che non basta, l'ho anche detto stamattina in un mio commento, ma le scuse non bastano ma l'ha fatto. Invece con questo ragionamento che fai te, che ho già sentito, che con la Raggi va tutto bene e tutto andava male prima, si risale, fammi finire e ti faccio la domanda, si risale ai sette re di Roma, al fatto che Roma è sui sette colli, tutto è colpa di quelli precedenti e precedenti e precedenti e precedenti, io questa cosa non ci credo, oggi governa la Raggi e quindi oggi a me interessa come reagisce, come reagisce la Raggi? Dal Messico, tu dici l'impegno era precedente, ma se come hai detto un attimo fa, proprio lei era sicura che nevicasse e proprio la sua giunta era sicura che nevicasse, l'impegno precedente poteva essere disdetto, se invece la pensava come l'editore del Messaggero poteva andare in Messico, però non si può cavalcare tutto, perché questa poi diventa una cosa che naturalmente c'è chi ci crede e c'è chi ti dice, ma scusa, ma se era lei a dire che ci sarebbe stata la neve perché non ha disdetto il Messico, perché è, no? Paolo, io mi ricordo di un tuo bell'intervento, mi pare che il programma, era sulla sette, non ricordo quale fosse il programma, credo l'aria che tira, in cui dicesti, con molta onestà intellettuale per la quale ti ammiro, dicesti, però parliamoci chiaro signori, nel nostro ambiente dei giornalisti un attacco preconcetto e così violento contro il Movimento 5 Stelle non c'è stato nemmeno contro la mafia, cioè nessuna cosa è stata attaccata da noi, nel nostro ambito, dei giornalisti, quanto il Movimento 5 Stelle. E lo penso ancora, lo ricordo, lo penso ancora, precisamente, lo sai, perciò sto parlando con te così, perché non mi convince il discorso dei settere di Roma, come? Non mi convinceva allora il discorso del capo espiatorio, dell'accusa col dito puntato su quattro fesserie che succedevano alla Raggi per aver incaricato, come si è dimostrato anche, come si sta dimostrando anche. Quindi, io quando posso ragionare con la mia testa, lo faccio in tutte le direzioni, ma che motivo avrei di prendermela con un Movimento che non ha mai governato. Perché? Dovrei dire, perché dovrei dargli le responsabilità uguali o peggiori di chi ha governato e sgovernato, o di mafia capitale. Non lo farò mai, però oggi siete in campagna elettorale e ti dico realisticamente, anche voi non potete dire, cioè te, poi parlo con te, perché poi ci sono altri dei 5 Stelle che erano invece in politica in quei mesi, lì, e picchiamolo sulla Raggi, se vuoi ti facci i nomi, ma li conosci benissimo, la Taverna, la Lombardi, non gli hanno lesinato neanche una critica, quindi non come i giornalisti, non come i giornalisti di cui parlavo io, ma all'interno di un Movimento c'è dialettica e c'è Stato. E la Lombardi è candidata alla Regione. Ora ti chiedo, proprio di programma, no? Andiamo a quello che dicevi tu prima del, diciamo, del candidato a ministro, che hai sostenuto con efficacia. Il programma dei 5 Stelle ora è quello che, se questa è la lista dei ministri, quali sono le cose più importanti che secondo te il Movimento 5 Stelle dovrebbe fare e farà se poi governasse davvero? Subito. Allora, volevo chiudere un attimo il discorso Raggi per chiarire anche i nostri spettatori. Secondo me sono giuste le critiche quando c'è qualcosa da criticare. Ritengo ingenerose le critiche sull'emergenza neve perché secondo me è stata gestita molto bene e il fatto che una persona fisicamente si trovi in un altro posto, se ha un vice sindaco che sa far funzionare le cose, non mi sembra assolutamente scandaloso, infatti il giorno dopo è tornata. Però l'emergenza neve è stata gestita bene, dentro Roma non ci sono stati disagi. In questo caso, poi che la Raggi abbia commesso degli errori, abbia dei difetti, come tutti noi, ci mancherebbe altro, non è che è infallibile. Però su questo punto, secondo me, le critiche sono state assolutamente foglie anche rispetto ai precedenti. Su questo sai cosa dice Di Maio? Una delle cose più belle che ha detto, anche quando è successo qualche scala più belle, che mi sono piaciute di più a me, ha detto noi siamo un movimento che viene dalla realtà. Abbiamo un movimento di persone, non pretendiamo di essere né perfetti né santi, ogni tanto può spuntare fuori, siccome raccogliamo della gente reale, può spuntare fuori qualche magaglia. La cosa importante è che quando spunta fuori la riconosciamo e la colpiamo, no? Esatto, esatto. Torniamo però a quello che mi hai chiesto prima. Andiamo al programma. Il programma. Allora, il programma nostro è in 20 punti, è la prima volta che c'è un programma che si può leggere in tre minuti, che tutti possono comprendere immediatamente e poi chi vuole può approfondirlo, perché poi il programma in 20 punti, chiaramente volendo, può diventare molto più approfondito e lungo e in rete si trova tutto. Ci sono anche per la prima volta le coperture economiche. Allora, dei 20 punti del programma, secondo me il punto più importante, ma questa è una mia personale opinione, è il reddito di cittadinanza. Perché? Perché questo Paese negli ultimi anni ha, come dire, aiutato i più ricchi, come sai, le disuguaglianze fra parte più ricca del Paese e parte che prima stava, diciamo, media e diventata sempre più povera. Sono aumentate moltissimo, ci sono tantissime persone in stato di povertà. Si parla, secondo me, in malafede di un milione di nuovi posti di lavoro, non è così. Ci sono state un milione di nuove posizioni lavorative, il che significa che ci sono state persone che magari hanno lavorato un'ora in una settimana e vengono considerate posizioni lavorative, ma non sono dei nuovi occupati. Se guardiamo il reddito pro capita, se guardiamo la quantità complessiva di ore lavorate, si sono perse miliardi di ore lavorate. Perché è chiaro che se uno, nell'arco di un anno, lavora 50 ore, risulta occupato, secondo queste statistiche. Ma è un morto di fame, purtroppo. Questa è una premessa per dire che il reddito di cittadinanza ha due caratteristiche fondamentali che sono totalmente innovative. La prima è che, allineandoci all'Europa, aiutiamo chi è in difficoltà. Sia un disoccupato giovane, sia chi magari a 50-55 anni ha perso un lavoro, non ha ancora l'età per andare in pensione ed è in un mare di guai. Io ti dico la verità, Paolo, ne ho incontrati tantissimi facendo questa campagna elettorale, strada per strada, casa per casa, negozio per negozio, che sto facendo. Con il reddito di cittadinanza avrebbe la possibilità di avere un reddito da 780 euro al mese, che significa soglia di povertà, che già sono pochi, ma insomma sono molto di più dello zero che praticamente adesso avrebbe, a patto che fa un percorso di formazione obbligatorio, che presta 8 ore di lavoro la settimana per le amministrazioni locali, il che significherebbe fare risparmiare denaro o fare aumentare l'efficienza delle amministrazioni locali. Parlo dei sindaci che in questi anni, l'ha detto anche Fassino, l'hanno detto tutti, hanno avuto tagliate le risorse dal governo centrale in maniera terribile, quindi è molto difficile amministrare non solo Roma, che è caotica e lo sappiamo, ma anche Campobasso probabilmente e anche i piccoli comuni e allo stesso tempo hanno la possibilità, rifacendo e riformulando i centri per l'impiego che fanno un lavoro prezioso ma che non basta perché il lavoro delle persone che lavorano nei centri per l'impiego non è supportato a sufficienza dallo Stato centrale, invece trasformare i centri per l'impiego significherebbe all'interno di questa grande riforma che è il reddito di cittadinanza significherebbe trovare fino a tre lavori possibili per le persone che ricevono il reddito di cittadinanza. Se rifiuti il terzo non hai più diritto al reddito di cittadinanza, se non fai le otto ore settimanali per il tuo comune non hai più diritto al reddito di cittadinanza, se non fai il corso di formazione sai in Sicilia quanti miliardi di euro sono stati buttati nei corsi di formazione fatti inutilmente per foraggiare questa o quella clientela, faccio il nome di Genovese, 100 milioni di euro sequestrati, sai di che cosa parlo? Ecco, riformiamo le politiche di occupazione a partire dal reddito di cittadinanza, le coperture economiche ci sono, ma ti dirò di più che oltre alle coperture che il Movimento 5 Stelle ha messo nel suo programma, se vuoi le elenco ma magari è un po' noioso. No, ma no le coperture, io prima delle coperture, siccome mi interessa fare questo lavoro che stai facendo te, è utile, perché 20 punti, però a me me ne interessa uno, io ve ne spiego bene uno, l'hai spiegato il reddito di cittadinanza, poi hai detto ci sono le coperture, non dubito che se vado adesso sul sito e tiro fuori ci sono le coperture, però a me interessa, siccome sei esperto di questa cosa e l'hai sostenuta, il costo di questa cosa, poi vediamo dopo le coperture. Il costo è di 17,4 miliardi di euro, il reddito di cittadinanza costerebbe 17 miliardi, considerando oggi i cittadini che ne hanno diritto, con l'estensione o no ai migranti? Certo, i migranti che sono regolari e che hanno diritti come i cittadini italiani, come prevede la Costituzione, hanno gli stessi diritti, quindi non facciamo come dire. Quindi regolari, certo, lavorano precariamente, lavorano, hanno perso il lavoro, come perdono il lavoro, allora il problema dei migranti è un altro problema che si dovrebbe, cioè noi dobbiamo dire stop al business dell'immigrazione, agli sbarchi, al business degli scafisti, del cara di Mineo, eccetera. Quindi fare diventare, il problema dei migranti deve cambiare, perché non possiamo più, anche perché la tensione sociale è molto alta legata a questo problema, però, e quindi non dobbiamo più distinguere, secondo me, fra migranti clandestini, migranti regolari, eccetera. Bisognerebbe fare in modo che in Italia ci fossero soltanto persone che hanno diritto di starci, ecco, e quindi se hai diritto di starci hai gli stessi diritti dei cittadini italiani, ok? Beh, però questo è difficile, adesso è difficile, lo sai perché? Perché adesso Certo che è difficile. Chi ci sta a diritto, ma non tutti quelli che sono entrati avevano diritto. Assolutamente no. Però noi non l'abbiamo, questo è proprio le persone che dici te, quelli che gestivano questo business, non l'abbiamo volutamente censiti per sapere chi aveva diritto. Hai detto la parola giusta, volutamente. Perché abbiamo pensato. La parola giusta è volutamente. Volutamente, certo, perché un po' ci hanno mangiato e poi quando finiva il tempo di mangiarci pensavano, tanto poi vanno da altri. Le buttavano in mezzo alla strada. E gli altri invece, o in mezzo alla strada. Gli altri hanno bloccato le frontiere, sono rimasti in mezzo alla strada, ma non sono censiti. Quindi è un problemone quello che stai dicendo te. È un problema che non si risolve in un minuto. Però per chiudere sul reddito di cittadinanza vorrei aggiungere che quando tu dai del denaro a delle persone che al momento non ne hanno e quindi non spendono, fai ripartire anche i consumi. Quindi parte di quel costo, oltre alle nostre coperture, parte di quel costo verrebbe coperto poi dall'IVA e dalle tasse che si pagano sui consumi. Ma non solo, Paolo. Diamo una notizia. Una enorme percentuale della spesa sanitaria annua in questo Paese è dovuta alla povertà, alla malnutrizione, alle condizioni di vita negative. Ci sono persone che sono talmente povere, soprattutto persone anziane, ma non solo, che non hanno i soldi per comprarsi le medicine, per dormire in un ambiente salubre, meno umido, per mangiare cose sane e mangiano male e non si curano quando iniziano una patologia e quindi poi la patologia si aggrava. Quindi dal punto di vista sanitario, quando la fascia della popolazione è più bassa, sta un po' meglio, lo Stato risparmia tanto. Guardati le statistiche di qualunque Paese europeo che ha questa misura nel suo welfare. Praticamente solo l'Italia e la Grecia non l'hanno, perché c'è la Francia, la Germania e la Spagna. Questo che dici te è chiaro. E' un risparmio quello. No, è chiaro che è così. Cioè, è chiaro. Se si riesce a far alzare la fascia della povertà di un po', anche solo di un po', cioè qualche milione di persone passa sopra la povertà e qualche milione di persone esce da quella infima povertà di cui parlavi te, il Paese sta meglio. Respira, c'è meno criminalità, c'è più sicurezza e risparmia i soldi sulla sanità. E' verissimo. Esatto. Vero anche che per coprire meglio, come doveroso, la spesa sanitaria e il welfare per queste persone devi imporre altri costi a una fascia più larga, magari a una fascia di cento medio. Guarda, ti faccio un esempio semplice. Cioè, tra le coperture ci sono 5 miliardi di euro che oggi sono le agevolazioni fiscali ai ricchi. Cioè, la cosa strada di questo Paese è che chi estrae petrolio paga una tassa più bassa dei lavoratori italiani. Certo. Ma tu lo sai... Dei lavoratori che guadano 1000 euro al mese e non dei lavoratori miliardari. Ma tu lo sai... E cioè, ma questo è assurdo. Ma perché c'è una liquida così bassa? Ma tu lo sai qual è stato il vero, reale motivo? Ho parlato con degli economisti per cui tanta gente ha detto impossibile la flat tax, cioè la tassa piatta. Te lo dico io. Perché bisogna assolutamente, e lo dice anche chi la propone, bisogna eliminare deduzioni e detrazioni quasi del tutto, se vuoi fare quella tassa. Siccome quello delle deduzioni e delle detrazioni è una giostra in Italia che è peggio di quella dei migranti, e questa è la vera resistenza, guarda. Non è vero che quella tassa piatta pagano i poveri come i ricchi. Questa è demagogia. È vero che devi eliminare le deduzioni e le detrazioni che oggi favoriscono comunque quelli più benestanti, i lecorsi. Paolo, un tempo il professore di scuola era una persona che portava avanti tranquillamente una famiglia. Oggi il professore di scuola ha delle enormi difficoltà. Cioè la classe medio borghese, bass, media di questo paese è diventata povera, ma ce ne siamo accorti o no? Sono milioni di persone, milioni di famiglie. Non parliamo della parola buona scuola, perché la buona scuola fa diventare pazzi giustamente tutti gli insegnanti che sono stati trattati come carne da macello e tante persone di quella fascia di reddito, cioè la piccola borghesia, è stata trattata come carne da macello, peraltro rovinando anche un tessuto sociale e culturale italiano. Il ceto medio è impoverito, ascolta questo colloquio è interessantissimo, ci siamo già fatti una bella mezz'ora però e quindi tra un attimo dovrò lasciare, però ti devo dire che, ti devo chiedere però qualcosa anche sulla politica, è l'ultima cosa, non l'abbiamo affrontata, abbiamo affrontato i ministri, le cose, tutte cose interessanti, anche quelle politiche, ma più concrete anche, però ti devo dire, se il movimento prenderà molti voti, come i sondaggi dicono, adesso non li sto a dire, se no ti fanno la multa, lo sai, però prenderà molti voti, allora è certo, io penso che siete contenti, ma penso anche che a un certo punto ci vorrà, perché non sarà a mio avviso il 50%, il 40% del Parlamento, ci vorrà una strategia per poter trovare delle alleanze, che finora non sono mai state nemmeno nominate, erano proibite fino a Di Maio, Di Maio ha aperto e ha detto, io però so che in Parlamento dovrò cercare, vi do il mio elenco di ministri, vi do i miei punti, poi vi dirò dei venti, quali sono quelli irrinunciabili, chi ci sta si può governare assieme, pensi anche te a una cosa del genere? Assolutamente sì, ne parlavo ieri con Zucconi in radio, io penso che in questo paese abbiamo memoria corta, invece io sono uno un po' fissato con la storia e la memoria, esistono già casi di appoggio esterno di un governo, cioè noi non offriremo mai poltrone, non offriremo mai alleanze basate sulle poltrone, abbiamo una lista di ministri, abbiamo dei punti del programma, di cui siamo fermamente convinti, è chiaro che se abbiamo la maggioranza assoluta facciamo come ci pare, se invece questo non avverrà, si propone questa lista di ministri e questo programma, a chi vuole stare sui punti, è chiaro che se magari su alcuni punti ci sono delle variazioni da fare, si fanno, perché non puoi pretendere che gli altri ci stiano a scatola chiusa, ma non in cambio di poltrone, è un'alleanza sul programma che proponi, noi non proponiamo alleanze politiche, se no le avremmo proposte prima andremo a stravincere le elezioni, come sai, perché siamo il primo partito, se avessimo proposto prima stravinceremmo le elezioni, invece io penso che esistano forze responsabili che potrebbero darci il voto, l'abbiamo sentito e letto sui giornali anche recentemente, per esempio quello ha detto Michele Emiliano, uno delle poche persone responsabili all'interno del PD. In politica non funziona proprio come dici te, cioè tu hai detto, se avessimo proposto delle alleanze prima, potremmo stravincere, se tu avessi proposto o proponessi delle alleanze prima, forse potresti perdere dei voti, però non siamo fatti così, perché dipende con chi ti ha lei, non appena scegli un amico, un altro sarà un nemico, era un paradosso perché sicuramente non saremmo in Movimento 5 Stelle se proponessimo elezioni prima, alleanze prima, hai detto come Di Maio, andremo a vedere sul programma, sui nomi e all'imparlamento che ci sta, però anche gli altri andranno a vedere in Parlamento quelli che oggi sono tra virgolette espulsi dal Movimento, ma che sono candidati e se prendono i voti saranno eletti, andranno in Parlamento e poi faranno come gli pare. Guarda, io non credo, io credo che a perlomeno, o in quei collegi dici non votatelo, andate a votare scheda bianca, non votate, oppure quello è io. Io penso che le persone che hanno detto che si dimetteranno lo faranno veramente perché lo hanno detto davanti all'Italia, hanno già mentito e hanno chiesto scusa e si sono eclissate, parlo per esempio di quelli che non avevano bonificato tutto quello che avevano detto di aver bonificato e quindi non posso pensare che una persona che davanti a tutta Italia dice una cosa poi non la fa, perché sarebbe come Matteo Renzi che ha detto se perdo il referendum è finita la mia esperienza politica, ha detto al Senato, nella solenne veste del Senato parlando di dignità, io credo nella dignità della politica, se perdo questo referendum la mia esperienza politica è finita, Veltroni lo aveva detto anni prima che sarebbe andato in Africa, stanno tutte e due là, io non posso credere che delle persone si vogliano umiliare così davanti all'Italia intera, quindi quelli che verranno eletti si dimetteranno, ne sono assolutamente certo. Staremo a vedere e io ti faccio gli auguri per il Portuense e quindi girerai anche per Monteverde, anche per Monteverde, benissimo, ti ringrazio, Dino Gianrusso lo ringraziamo, lo salutiamo e naturalmente finisce qua la puntata, ce ne sarà un'altra domani, ormai ce ne sono due di speciali per le elezioni, domani e dopo domani e poi c'è sempre TG.com, non temete, TG.com c'è sempre, anche oggi con il suo approfondimento, vi lascio allo Sport e a TG.com, buona giornata.